Studiano al Dipartimento di Matematica dell'Ateneo di Trento. Molti di loro vengono da fuori provincia e ambiscono a lavorare nella ricerca o nell'istruzione. Per un fine settimana si sono dedicati a studiare ed elaborare le esigenze di un comune del Trentino. Sono 32 gli studenti iscritti ai corsi magistrali della Facoltà di Povo che, guidati dal professor Claudio Fontanari, si sono riuniti al centro Handicamp di Ronchi di Ala per studiare idee di sviluppo per l'amministrazione di Ala. Una sfida voluta fortemente da provincia e comune nella convinzione che dall'incontro fra studenti e territorio possano nascere spunti utili per il rilancio socio-economico locale. La possibilità è quella di unire professionalità completamente diverse rispetto al contesto locale per creare occasioni di sviluppo per aree marginali montane. Quindi gli studenti possono essere una risorsa importante per il loro background formativo e esperienziale per portare nuove idee. Ci stiamo muovendo su molti fronti, però raccogliere qualche idea in più da parte di questi giovani studenti, studiosi nell'ambito locale può essere un'occasione in più, come dicevo. Le menti giovani sono fresche e pronte a cogliere magari cose che noi che sul territorio vediamo tutti i giorni non riusciamo a cogliere. I ragazzi si sono divisi in sei gruppi che hanno elaborato altrettante idee, tutte ispirate alla figura di Gianfrancesco Malfatti, matematico nato proprio ad Ala nel 1731. I sei progetti che ne sono nati sono stati presentati nel corso della giornata conclusiva nella sala del consiglio del comune di Ala. Ecco ne alcuni. Una sala espositiva che raccolga tutti gli studi del matematico Alense, un libricino che ne racchiuda l'elaborazione del celebre problema e le soluzioni elaborate anche negli anni successivi. Una sorta di escape room che si risolva affrontando problemi logico-matematici e poi... Con il mio gruppo abbiamo pensato un progetto di museo a cielo aperto, quindi un'applicazione che possa permettere ad un visitatore in qualunque momento di arrivare ad Ala, scaricare l'applicazione e iniziare questa caccia al tesoro che lo porti in giro per la città con la figura del matematico Malfatti che lo possa guidare e fargli osservare determinati aspetti e curiosità di Ala. Ci siamo concentrati soprattutto su Ronchi di Ala, quindi abbiamo progettato un'escursione che abbiamo deciso di chiamare Passeggiata Malfatta in onore del matematico qui di Ala, originario. In questa passeggiata dedicata e pensata per le famiglie, nonché per studenti di tutta l'età, insomma comunque per un pubblico di non addetti ai lavori, quindi veramente per chiunque, di concentrarci su alcuni aspetti della matematica complessi ma da poter trasmettere al grande pubblico. Abbiamo elaborato una gita scolastica a tema matematico che serve per valorizzare la città di Ala attraverso la figura del matematico nato proprio qui, Gianfrancesco Malfatti.